la gemma del parco bellissimo il tempio dei sensi luogo stupendo veramente abbiamo mangiato magnificamente molto molto bene mangiato e bevuto tu hai ancora fame dopo tutto quello che hai mangiato e no dai si mangia bene si mangia bene proprio il posto dove vengono in mente un sacco di progetti da fare noi vi invitiamo davvero venite alla gemma del parco la gemma del parco sì poi c'è l'arietta bellissimo qua in mezzo al verde tra le montagne è un luogo stupendo veramente la gemma del parco contrada campolongo mormanno numero uno